Ciao ragazzi, bentornati su Bedda Radio, siamo qui allo Youth Center a Gela per presentarvi questo straordinario progetto insieme al Presidente dell'Associazione Mediterranean Planners, Francesco Bonsinetto. Ciao Francesco. Grazie Francesco per avermi qui con voi. Allora, intanto è un piacere, tu ti sei presentato, prima ci siamo presentati, è stato un piacere conoscerti e mi hai detto che sei un esploratore urbano, cioè cosa significa essere un esploratore urbano? Mi è sempre piaciuto esplorare città sia del nostro meraviglioso paese ma anche di altri paesi europei o asiatici o americani, per cui ogni tanto mi piaceva definirmi esploratore urbano. E con altri esploratori urbani abbiamo deciso tanti anni fa, credo fosse il 2005, di creare questa associazione internazionale chiamata Mediterranean Planners, proprio con l'idea di collegare tutti questi esploratori urbani, tutti gli amanti di città, spazi urbani, di culture urbane. In una parola abbiamo creato una rete di urbanisti, architetti, di altri professionisti che in qualche maniera si occupano di città. Tu in questo momento vivi anche a Santiago, in California, quindi fai questo viaggio tra la Sicilia e la California. Perché fai questo? Cosa stai portando dall'altra parte dell'oceano? Sì, in quanto esploratore urbano mi è capitato sei anni fa di iniziare questa avventura americana, prima a Boston, nel East Coast e poi San Diego, nel sud della California. Me ne sono innamorato perché in qualche maniera ho ritrovato alcune radici comuni, a parte il clima, anche il buon cibo e anche delle persone molto calorose come possono essere i siciliani o comunque i meridionali in genere. E quindi sto esportando in qualche maniera la nostra cultura siciliana dell'ospitalità. Quindi abbiamo creato anche un nuovo progetto chiamato Cucina Migrante, dove con altre persone, altri chef o amanti del cibo, cuciniamo. Sostanzialmente non è solo il cibo, il cibo per noi è la scusa, una scusa per mettere attorno a un tavolo delle persone che non si conoscono tra di loro, ma che apprezzano il momento conviviale del mangiare. Quindi una cucina vista come relazione. Esatto, relazione è una parola perfetta. Il cibo come connettore umano, come momento di convivialità. Quindi ci piace anche supportare il sistema locale dei contadini. Facciamo parte anche del movimento Slow Food, negli Stati Uniti è molto forte, altrimenti è un movimento che nasce in Italia, ormai 30 anni fa. E quindi sì, con Cucina Migrante stiamo diffondendo la cultura siciliana del cibo sano, dell'ospitalità, organizziamo lezioni di cucina, ospitiamo nella nostra casa o andiamo a casa di altre persone. Ma l'idea è sempre quella di cucinare, di divertirsi attorno al cibo. Questo è molto importante. Prima sono stato nella stanzetta a fianco alla radio, qui allo Youth Center, e ho visto un po' il fermento che c'era all'interno, perché Francesco sta coordinando alla grande questo laboratorio con i ragazzi e l'alberghiero. E lì si parlava di Slow Food, ma i ragazzi oggi conoscono soprattutto il Fast Food. Sì, esatto. Tu mettevi a confronto, appunto, queste due realtà che si stanno portando avanti. Oggi in che modo è possibile proiettare i ragazzi verso lo Slow Food? Sì, l'obiettivo di questo laboratorio chiamato Cibo Identità, che è stato organizzato, mi sembra, egregiamente, per quello che sto vedendo in queste settimane, l'obiettivo, appunto, è quello di offrire a questi ragazzi delle scuole superiori dell'alberghiero, offrire la possibilità di conoscere meglio la propria città. Perché spesso, non ci rendiamo conto, ma molto spesso succede che non valorizziamo appieno ciò che abbiamo. Gela, ma non solo gela, tutto il territorio circostante Gela è ricco di archeologia, ricco di grandi testimonianze, ma soprattutto ricco di grande cibo. D'altronde a Gela è il luogo dove per primo fu scritto un libro di ricette, tanto, tanto tempo fa, però mi sono reso conto che questi ragazzi spesso non si rendono conto la fortuna che hanno a vivere in un luogo dove ci sono così tante ricchezze culinarie, archeologiche e altro. Soprattutto oggi che è stato creato qui a Gela l'orto sociale. Esatto, quindi con il laboratorio Cibo Identità cosa stiamo facendo? Stiamo cercando di, no, stiamo cercando, vogliamo spiegare a questi ragazzi intanto l'importanza dei piatti storici, appunto perché Gela ha una grande storia, ma anche l'importanza di ingredienti, ingredienti sani, anche conoscere il territorio attraverso appunto le risorse che ci sono sul territorio, quindi c'è questo orto sociale che è un gioiello che tante altre realtà italiane appunto invidiano e quindi li abbiamo portati lì per fisicamente vedere questo orto sociale perché molti di questi ragazzi non sapevano neanche che esistesse un orto sociale e molti di loro non sapevano cosa fosse un orto sociale. Alcuni sanno perfettamente che la melenzana cresce dentro il freezer, cioè qualcosa di incredibile. No, ad esempio intervistando questi ragazzi abbiamo scoperto che tutti sanno che c'è un McDonald's, ma non tutti sanno che c'è un orto sociale, quindi l'obiettivo di questo laboratorio Cibo Identità è un po' meno McDonald's e un po' più orto sociale, un po' più panini o cibo sano fatto a casa o anche così andando in giro per Gela, sono sicuro ci saranno tante salumerie, botteghe, ristoranti che offrono cibo pulito, come appunto dice Slow Food, e un po' meno McDonald's o fast food, questi modelli che vengono da altre parti del mondo che inseguono dei, sai, molto spesso noi inseguiamo degli stili di vita che non sono nostri, quindi è bella la contaminazione, ma è bella una contaminazione consapevole. Questo è il laboratorio che state portando avanti, noi abbiamo cercato di spiegarlo in pochissime parole, facciamo un saluto a tutti i ragazzi che ci stanno guardando, invitiamo tutti, non solo i ragazzi di Gela, ma anche chi guarda dall'altra parte che l'alimentazione è fondamentale per il nostro corpo, per il nostro fisico e quindi mangiare bene ti porta a vivere bene, quindi diventa fondamentale una identità Slow Food. Grazie per inserirmi nella vostra programmazione, per questa chiacchierata, vi aspetto a San Diego, noi siamo pronti, non ci dire così perché noi veniamo a San Diego, con Giorgio che è dall'altra parte della telecamera e Valentina, facciamo un biglietto e veniamo da te a San San Diego, perché sappiamo cucinare benissimo, è Slow Food, già avete il giusto spirito, per cui siete benvenuti. Grazie Francesco, grazie alla tua associazione, a chi ti supporta e grazie per quello che fai per il nostro territorio che è quello siciliano, queste radici migranti. Ciao a tutti e Listen To, Bella Radio, ciao! Ciao a tutti!